La squadra mobile di Cosenza, nell'ambito di un'operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica Bruzia, questa mattina ha tratto in arresto tre persone che importavano cocaina dalla Colombia. I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle 11.00 negli uffici della Questura di Cosenza.